Si celebra oggi la giornata internazionale del caffè, una delle bevande più bevute del pianeta. Può essere delicato, morbido, deciso o intenso, ma gustare un buon caffè è il modo migliore per iniziare la giornata. Le principali varietà di caffè diffuse al mondo sono quattro, arabica, robusta, liberica e celsa. Una delizia per il palato che rischia però di diventare ancora più costosa. Il prezzo del caffè crudo è aumentato vertiginosamente negli ultimi mesi, di conseguenza una tazzina al bar ha subito un ricaro del 15%. Oggi viene venduta in media a 1,50€ ma potrebbe aumentare ancora.